ciao ben trovati a tutti 12 maggio vediamo la situazione su tesla prima vi ricordo questa sera alle ore 20 il webinar gratuito dedicato a un focus su titoli bancari di tutti gli indici dove andremo a fare uno stop picking una selezione dei migliori titoli da analisi tecnica per il breve medio periodo per il portafoglio siamo su tesla mentre il registro sono circa le 18 quindi mercati aperti allora siamo sul daily chiaramente c'è un trend rialzista in atto pluriannale e qui però abbiamo avuto in area 900 dollari questa questo livello di triplo massimo primo minimo relativo rotto al ribasso retestato il il livello proprio del del minimo eccolo qua retestato precisamente quindi supporto rottura retest e il prezzo correttamente scende oggi sta al momento facendo ancora una candela di stampo ribassista quindi un hammer rovesciato quindi una candela di rifiuto del prezzo e potrebbe quindi proseguire ancora la discesa ma il trend primario è chiaramente rialzo e andiamo a vedere un livello molto molto importante dove il prezzo probabilmente andrà ad arrivare parliamo di area eccoci qua di area 500 e 50 dollari ed è un livello che andrà proprio a fornire un area molto molto sensibile probabilmente di di triplo minimo un supporto chiarissimo area 550 560 dollari chiaramente un minimo di tolleranza vista anche la volatilità del titolo ed è un supporto statico che vediamo sicuramente sicuramente chiaro insomma senza senza nessun sforzo lo andiamo a riconoscere quello che ci interessa sono altre due altre due situazioni sul grafico in primis che tale livello andrebbe ad essere anche un livello supportivo dinamico sia obliquo di lungo periodo ecco ci vediamo come questa trend line viene testata varie volte poi il prezzo va in uptrend e adesso però potrebbe andare a ritestare il supporto statico quindi area 550 560 dollari effettivamente un livello fondamentale ancor più perché coincidente all'incirca sempre un minimo di tolleranza le media mobile sono ritardo ma coincidente all'incirca con la media mobile a 200 quindi attendiamo i 560 dollari dove in presenza di un pattern rialzista sarà interessantissima una posizione long su tesla chiaramente andremo a posizionare anche uno stop loss sotto a questo a questo minimo di questa candela quindi sotto i 540 dollari perché perché se dovesse essere rotto al ribasso poi questo livello qui siamo in presenza di un possibile triangolo ribassista che non andiamo ora a dare target in caso di rottura al ribasso ma chiaramente cambierebbe tutte le carte in tavola e insomma sarebbe poi una situazione da lavorare all'opposto ma per ora tutta questa area di 550 560 dollari è un'area supportiva estremamente interessante che monitoriamo quindi in ottica long un saluto a tutti e buon trading